signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale e questo sarà l'ultimo appuntamento per questa mini serie estiva diciamo il secondo anno del mega dungeon dalla settimana prossima ritorneremo la programmazione regolare ma come avevo già anticipato ci sono ancora due cose importanti di cui dobbiamo parlare abbiamo dedicato la mini serie di quest'anno al passare da un ambientazione generica sviluppata per il canale a qualcosa di estremamente specifico e caratteristico e negli scorsi video abbiamo visto sia come dare una particolare caratterizzazione alla lore dell'ambientazione sia come renderla iconica per quanto riguarda l'aspetto e lo stile grafico sia dei mostri dell'ambientazione in generale sia per quanto riguarda nello specifico i png questo sicuramente aiuta a rendere l'ambientazione caratteristica e ad aiutare i giocatori a immaginarla nella maniera più simile possibile tra i loro ma non basta ancora a rendere l'ambientazione qualcosa di effettivamente specifico e iconico che la distingua da tutte le altre quindi questa settimana vedremo gli ultimi due elementi e ovviamente come abbiamo fatto nei video scorsi ricorreremo all'aiuto i due specialisti ogni ambientazione che viene scritta è a suo modo unica e particolare che sia l'ambientazione che avete scritto voi per giocare con gli amici vostri venerdì sera che sia qualcosa di più vasto e complesso come appunto il mega dungeon collettivo del canale che è stato fatto da più di una dozzina di persone contemporaneamente sia un'ambientazione sviluppata proprio per motivi commerciali diviso in volumi e venduta come parte di un gioco di ruolo molto più ampio e diffuso questo ovviamente è un aspetto positivo ogni ambientazione avrà le sue caratteristiche specifiche e col gran numero delle ambientazioni sarà molto probabile che esista un'ambientazione particolare che possa piacere a qualcuno all'interno del mondo del gioco di ruolo ma al contempo è anche negativo proprio perché con così tante ambientazioni soprattutto quando parliamo di qualcosa che non è legato a un gioco già iconico di per sé come può essere appunto la nostra ambientazione il mega dungeon che questa si vada a confondere in un mare di decine di migliaia di ambientazioni sviluppate da tutti i giocatori in giro per il mondo diventa molto probabile diventa molto probabile che semplicemente i giocatori o chi potrebbe essere interessato a giocarci non si ricordi che esista perché la letta di sfuggita mesi prima e ora non riesce più a fare mente locale su dove ha sentito magari quegli aspetti particolari che lo avevano interessato ora se l'ambientazione che voi avete scritto è qualcosa che avete fatto per i vostri amici al vostro tavolo questo non è un reale problema l'ambientazione l'avrete scritta apposta su quei giocatori e quei giocatori dato che sono gli unici che la giocano sicuramente sapranno quale l'ambientazione in cui giocano ma quando andiamo a parlare di un progetto che vuole mirare a essere un attimo più ampio più esteso e soprattutto che possa venire gestito da più persone contemporaneamente come il mega dungeon questo lo rende effettivamente più complicato ad esempio magari qualcuno di voi che ha seguito questa miniserie o che magari segue l'ambientazione già dalla scorsa stagione potrebbe voler provare a portarla al proprio tavolo e proporla ai propri giocatori ma a quel punto per interessarli avrà bisogno di qualcosa di più del nome mega dungeon e di qualche parola per introdurre l'ambientazione per superare la diffidenza dei giocatori verso un'ambientazione generica che è stata trovata in rete o qualcosa del genere serve qualche elemento che renda iconica e caratteristica non tanto il mondo di gioco e l'immaginario nell'ambientazione ma proprio l'ambientazione stessa che la renda riconoscibile rispetto alle altre e come avete visto la copertina per quest'ultimo video ce la siamo procurata un'immagine di impatto che possa facilmente restare nella memoria dei giocatori in memoria del pubblico e rendere immediatamente riconoscibile la nostra ambientazione rispetto al mare di tutte le altre ovviamente realizzare qualcosa del genere non è alla portata di tutti soprattutto non è alla mia portata quindi abbiamo dovuto ricorrere all'intervento di uno specialista e quindi abbiamo chiamato un marcello il nostro grafico allora marcello aveva innanzitutto chi sei e cosa fai qui piacere mi chiamo marcello pibri mi occupo di grafica e anche gli altri componenti come il 3d all'interno dello studio di pavolati ho già lavorato a parti dei nostri lavori e in generale questo è quello che faccio grafica generalmente tu per questo nostro progetto improvvisato sei quello che ha creato il logo quello e dovrebbe essere il titolo del nostro progetto come come sei arrivato al logo come ti sei ispirato il logo è fatto di parti diverse texture diverse allora diciamo che più che un logo questo è un rendere un rendere artistico per il progetto sicuramente il logo arriverà sarà un po più stilizzato magari qualcosa di meno ricco di dettagli ma per fare questo c'è stata tutta una una sequela di di fasi e la prima è stata ovviamente parlare parlare con te ottenere tutte le informazioni su o almeno il più possibile sulla loro sul contesto del mondo di gioco è anche molto ricco e vario in base al materiale che ho ricevuto da te ho cercato di avviare di rappresentare il più possibile di tutti questi concetti è appunto la possibilità di utilizzare in questo caso il 3d ho voluto aggiungere più dettagli possibili che rappresentassero le spaccettature del mondo che tu hai creato e i tuoi utenti avrete creato altra domanda apparentemente banale ma no come sei arrivato a questo render perché non è semplicemente una scritta sembra effettivamente fatto di varie parti come le hai ottenute quale è stato il ragionamento che c'è dietro assolutamente sì la fase successiva appunto è stata andare online e cercare delle reference per tutto quello che mi occorre inserire all'interno della scena cominciato con i materiali di base quindi ho cercato elementi come la roccia la roccia lavica sotto del logo era semplice per poi passare a qualcosa di più di più complesso come magari la vegetazione il tipo di alberi che avevo deciso di inserire all'interno del render è ovviamente un font adeguato per le nostre esigenze dopodiché sono passato alla fase di modellazione dove ognuno di questi elementi è stato realizzato in una maniera il più variata possibile e successivamente ottimizzato per poter entrare all'interno della scena perché una volta assemblato ovviamente devi iniziare a utilizzare alcuni elementi che arrivano a pesare diciamo abbastanza e dopo cerco di non tirarla troppo ho cercato di piazzare nella maniera migliore possibile le luci all'inizio per poi correggerle davanti e applicato i vari materiali e modelli per vedere se riuscivano a stare tutti bene all'insieme di un render così ricco anche perché la difficoltà era quella o meglio il rischio di inserire troppa roba e magari renderlo poco leggibile ma direi che almeno sembra andato bene diciamo che sei riuscito a trasmettere praticamente l'intera ambientazione un'unica immagine quindi sono contento arriveranno sicuramente speriamo anche perché il progetto andrà avanti però per come l'hai detta sembra estremamente semplice quindi già immagino che realizzare i singoli materiali magari adesso faccio passare qualche immagine di quelle che mi hai mandato io ve lo dico io non ho capito quello che fa esattamente lui di lavoro io lui gli ho detto guarda ci sarebbe da fare una cosa così lui mi ha mandato delle immagini io ho sorriso annuito allora so che poi potresti parlare per un'ora di come hai creato i materiali ma sarebbe incomprensibile per il pubblico una roba però forse è più comprensibile come sei arrivato a fondere le cose assieme cioè come sei arrivato a decidere che ok questa questa scena in realtà è quello che volevo diciamo che per fare questo si utilizzano le tecniche base le più semplici perché sono quelle che funzionano meglio a cominciare da uno sketch amaro si sceglie un supporto nel mio caso il tablet ho preparato degli schizzi per vedere se erano gradevoli anche soltanto delle basi di questi elementi combinati assieme ovviamente poi nella fase 3d questi elementi sono stati allineati sistemati e corretti cercando di dove si poteva collimare i dettagli magari collimare i colori perché comunque sono tutti elementi con una gammatura di colori diversa e una serie senza entrare troppo nello specifico di tipi di oggetti 3d diversi e alla fine grazie comunque effetti come post process in come composito si parla di blender in questo caso ovviamente si riesce a dare un effetto più o meno collimato al tutto più o meno gradevole apparentemente tutto appartenente alla stessa gamma cromatica o di oggetti anche se hai ragione effettivamente l'editor l'editor modale è una cosa che può spaventare all'inizio ma in realtà ovviamente uno di quei processi uno di quelle cose che richiede molta pratica sbatterci la testa spesso ma è assolutamente alla portata di tutti blender è meno complesso di quello che serve sì sono convinto che in appena 10-15 anni di esercizio uno ci può arrivare molto meno molto meno va bene va bene grazie Marcello e grazie per il tuo contributo però noi non abbiamo ancora finito un forte impatto grafico infatti aiuta a rendere l'ambientazione iconica rispetto a tutte le altre ma da solo l'impatto grafico non ha alcun peso all'interno del gioco è sicuramente bello avere una propria grafica specifica simbologie, loghi, immagini come abbiamo visto anche negli altri video rappresentazioni pittoriche tutto questo rende molto più viva l'ambientazione nella mente dei giocatori e la rende come abbiamo detto riconoscibile ma volendo andare sul terra terra una volta che i giocatori saranno intorno al tavolo per quanto i disegni dell'ambientazione possano essere belli e per quanto la sua grafica possa essere accattivante questo non andrà a influenzare con il modo in cui loro andranno a giocare al gioco perché quello che definisce realmente un mondo immaginario da un altro un'ambientazione rispetto a un'altra quella che ha veramente un impatto sul modo in cui i giocatori giocano sono le regole quindi se noi vogliamo che davvero la resa al tavolo del Mega Dungeon sia un'esperienza unica e diversa da quella che potrebbe essere una qualsiasi altra ambientazione dovremmo andare a sviluppare delle regole specifiche per il Mega Dungeon che siano coerenti e spingano i giocatori a comportarsi a far comportare i loro personaggi nel modo previsto per loro all'interno del nostro mondo di gioco immaginario e per questo abbiamo dovuto sentire lucertola rossa nella vita Raffaele allora Raffaele anche tu tu sei il designer di Fabula Crew quindi intanto cosa fai te nella vita e perché ti odiano tutti mi odiano tutti perché faccio marketing uno ma a parte questo in realtà diciamo così organizzo tengo un po' le redini di quello che è Fabula Crew Studio e quello che è il nostro progetto Armalia che abbiamo già portato su questo canale tra l'altro e ti ringrazio figurati anche perché ci sono dentro e devo far vedere quanto io sono bravo a scrivere ma non parliamo di me parliamo di te che invece per quanto riguarda sia Armalia sia il nostro progetto di Mega Dungeon ti sei occupato della parte più sgradevole di tutto cioè hai pensato alle regole allora purtroppo quest'anno non ho avuto modo di scrivere per le fazioni invece l'anno scorso ho partecipato nella fase di war building perciò ho deciso di farmi tra virgolette perdonare creando, ideando diciamo così una bozza di un piccolo sistema di reputazione dedicato alle fazioni del Mega Dungeon e allora la prima domanda che ti faccio è perché proprio la reputazione perché di tutta l'ambientazione hai deciso di regolamentare quello beh a parte l'ovvia considerazione che quest'anno il tema erano le fazioni personalmente dare un tocco come dire politico e sociale a quella che è un'ambientazione che diciamo così a occhio potrebbe sembrare più esplorativa che altro un gioco di esplorazione secondo me aggiunge molta profondità al gioco perché definire i rapporti politici tra le fazioni è una cosa che mi piace molto all'interno dei GDR e amo i GDR dove questa cosa approfondita tant'è che noi stessi in armalia l'abbiamo approfondita parecchio lo vedrete poi per adesso meglio non anticipare ok sì comunque è vero l'anno scorso ci siamo più dati agli aspetti OSR con l'esplorazione quest'anno ovviamente stiamo ci siamo spostati più sul trad e quindi sul politico e allora tu hai mandato anche una serie un pdf con tutte le regole che tra l'altro poi vi lascio sul server di discord nel caso vogliate pigliare queste regole nel caso vogliate proporre l'ambientazione al vostro gruppo o vogliate riciclarvela per la vostra ambientazione però dacci un overall come funzionano le tue regole e visto il tema della puntata perché hai deciso di farle funzionare in questo modo? allora anticipo una cosa queste regole sono per lo più una bozza ecco in un vero processo di creazione di un sistema di gioco qui saremmo proprio in una fase tra molte virgolette embrionale bisogna farle passare in rassegna al team creativo per far sì che poi ogni singolo elemento che sono andato a proporre a creare combaci con quelle che sono effettivamente le fazioni all'interno del gioco combaci con le sensazioni che il gioco vuole trasmettere che il mega dungeon vorrebbe trasmettere secondo te che sensazioni dovrebbe trasmettere un mega dungeon? ma allora diciamo che se adesso dovessimo farlo come lavoro e mi arrivasse la tua bozza di regole che ho visto probabilmente bisognerebbe fare in modo che le singole ricompense vadano a integrarsi meglio con la specifica fazione perché i costrutti dovrebbero dare delle sensazioni di i costrutti sono molto più qualcosa che ha dei temi di thriller cioè chissà cosa vogliono fare sta gente chissà cosa potrebbe succedere i costrutti mentre gli uomini di lucertola sono un tipo di minaccia più diretta cioè gli uomini di lucertola arrivano e vogliono mangiarti i predoni stessa cosa arrivano e vogliono derubarti ma per esempio i minatori la fazione dei derro dovrebbe avere roba molto più economica spicciola mentre ovviamente i coloni dove sono proprio politici politici sono i nostri rivoluzionari settecenteschi quindi anche lì dovrebbero avere anche una retorica diversa mettiamola così però però diciamo che come come base come idea generale ovviamente sì no questo bisogna dirlo tutto tutto quello che vi sto facendo vedere sempre l'inizio del processo ovviamente nella vita vera le cose molto più lunghe e ci vorrebbe anche molto più tempo per farlo che per questi video ovviamente non avevamo esatto purtroppo no diciamo che quello che ho fatto ecco partiamo magari proprio dall'inizio del processo creativo innanzitutto ci vuole un sacco di alcol che compone l'ottanta per cento del mio processo creativo se state progettando il vostro gioco mettetelo a budget mettetelo a budget perché è importantissimo se siete fumatori ancora peggio lasciamo stare la prima cosa che si fa è chiaramente ideare una struttura questo perlomeno è il mio modo di costruire delle regole una volta che ho definito la tematica una volta che ho capito qual è la sensazione che voglio cercare di far passare vado a creare una piccola struttura nel mio caso io sono partito dal concetto di reputazione un concetto molto semplice lo ritrovate in tantissimi altri giochi io in particolare più che ispirarmi ai sistemi di fazione di altri GDR sono andato a ispirarmi ai sistemi di fazione degli MMORPG in particolare quello che mi ha più diciamo così più ispirato è stato quello di Lord of the Rings Online che è un gioco che ho giocato per tanto tempo chi l'ha giocato lo saluto magari ci siamo trovati e la mia struttura parte da dieci livelli di reputazione in realtà da zero a dieci e dopodiché quelli che ho chiamato le gesta che sono sostanzialmente gli atti le azioni che servono per accrescere la reputazione suddivise in vari tipi di gesta e quelle che ho voluto chiamare un po' perché non sapevo come chiamarle un po' perché mi serviva un nome le antigesta ovvero quelle che al posto di farti guadagnare reputazione te la fanno perdere questo è proprio lo scheletro iniziale dopodiché partendo dallo scheletro sono andato a definire i livelli di reputazione siccome il mega dungeon è un'ambientazione vasta in cui io immagino che la gente ci passi tanto tempo a giocare nel senso un mega dungeon per me è qualcosa che può andare avanti dei mesi se non degli anni dimmi se sbaglio no anzi per come l'abbiamo concepito l'intera campagna dovrebbe essere ambientata qua dentro quindi teoricamente potrebbe durare all'infinito qualsiasi cosa questo voglia dire nel rispettivo gruppo di gioco mettiamola così perfetto una mia campagna ci durerebbe anni faccio che dirvelo proprio per questo ho creato un ampio range di livelli di reputazione partendo dal livello zero che è essere nemico di una fazione dove tu hai letteralmente una taglia sulla tua testa o l'hai combinata grosso o comunque sei identificato come un pericolo fino ad arrivare addirittura a un livello quasi impossibile per me nella mia testa da raggiungere l'ho reso anche molto difficile da raggiungere che è il maestro di fazione dove spodesti chiunque sia al comando in quel momento e diventi tu il capo della fazione nel mezzo le cose non sono poi così facili nel senso che conoscendo diciamo così il mondo dei mega dungeon conoscendo anche l'idea che c'è dietro a tutte le fazioni avendo visto lo sviluppo all'interno del gruppo ho immaginato che anche solo l'acquisire reputazione non causa sempre delle reazioni positive neanche nei livelli più alti faccio un esempio molto banale il livello 1 di reputazione che è lo straniero poi lo troverete all'interno del pdf è un livello che ti identifica come un forestiero una persona che è potenzialmente pericolosa di cui nessuno si fida non sei un nemico ma sei comunque diciamo così fuori luogo ecco è un livello dove c'è molta diffidenza nei tuoi confronti difficilmente puoi accedere nei territori della fazione tantomeno trattare merci fare commercio interagire con i suoi membri e quando questa cosa accade è sempre per un tempo molto limitato oppure pagando caro ma al contempo se si va ad esempio al livello 8 che è il livello stimato uno dei livelli più alti di reputazione dove sei indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi della fazione e ti hanno permesso di occupare un posto a sedere tra quello che è diciamo così la sala dei bottoni membri di spicco della sua gerarchia prima dell'eventuale maestro anche lì nonostante hai veramente un sacco di possibilità hai un potere decisionale molto forte magari hai diversi membri della fazione al tuo cospetto quello che succede è che le fazioni nemiche ti ritengono un obiettivo estremamente caldo e quindi non mancano le occasioni in cui vieni attentato alla vita o alla carriera o persino dall'interno della fazione cercano di spodestarti quindi ogni cosa diciamo così ha un suo contrapasso anche salire di reputazione diventa vantaggioso ma pericoloso questo perché mi immagino il megadungeon come un posto veramente brutto un posto difficile dove sopravvivere questa è una cosa estremamente interessante perché dà la possibilità di mantenere alto per il master il livello di tensione anche ai livelli molto alti in modo che i giocatori non possano mai stare comodi dire ok abbiamo raggiunto questo livello quindi adesso non dobbiamo più temere le fazioni dobbiamo solo temere i combattimenti no gestendola in questo modo anzi più tu sai di livello più il gioco politico aumenta invece di diminuire esattamente anzi è proprio lì che quando arrivi ad essere stimato rispettato quando sali di rango è lì che entri all'interno delle più o meno intricate trame politiche della fazione quindi hai tanta conoscenza magari esclusiva sui segreti sugli intrighi sugli obiettivi che ci sono dietro ma è altrettanto pericoloso avere tutto questo potere perché ti espone è un po' stato questo il mio ragionamento poi cosa posso dire che per ogni grado ecco ci sono chiaramente delle bozze di quelle che sono le possibili reazioni della fazione ovviamente se si fa una cernita se si vuole rendere la cosa non realistica verosimile che per me sono due cose piuttosto diverse all'interno di una fazione quello che tu puoi chiedere è secondo me riparo commercio e aiuto quindi questi sono i tre vantaggi che tu puoi ottenere da una fazione mettiamo caso un gruppo che dice ok vogliamo allearci con questa fazione X dei costrutti piuttosto che cercare di ingraziarti i lucertoloni a quel punto cercheremo di capire anche che cosa questa fazione ci può dare e per tutte le fazioni in linea di massima queste sono le tre cose che la fazione ti può dare ti può dare le sue risorse che possono essere anche esclusive ti può dare del riparo ti può dare dell'aiuto quindi ti può anche fornire magari dei veicoli ti può fornire dei membri per affiancarti durante un'avventura e ovviamente in uno sviluppo successivo ci sarebbe anche da affinare cosa che a me piace tantissimo ma non tutti fanno dei poteri specifici che quella fazione ti dà in ambientazione abbiamo varie possibilità di farlo dalle tavolette magiche dei lucertoloidi ai cristalli magici dei nani sarebbe interessante vedere le abilità speciali dei predoni ma voglio che questo video continui ad essere monetizzabile però diciamo sono i tre aspetti fondamentali delle necessità degli avventurieri cioè equipaggiamento riposo e quest va bene grazie per il tuo contributo come vi han detto trovate poi le varie regole scritte anche meglio nel nel gruppo discord Raffa non so vuoi vuoi dire qualcosa per chiudere ma in realtà vi invito a scaricarvi il pdf trovate questo piccolo sistema veramente agnostico lo potete affinare per chi ha un po' voglia di smanettare nel game design lo potete affinare e provare all'interno delle vostre campagne con qualunque gioco così abbiamo lasciato anche i compiti a casa sul server discord e anche sul gruppo telegram con l'uscita di questo video troverete tutti i file sia delle regole di cui ha parlato Raffaele sia tutta la parte di grafica di Marcello e le illustrazioni che avete visto nei video precedenti di Dave noi di Fabula Crew Studio abbiamo deciso che visto lo spirito collaborativo del progetto rilasciamo tutto gratuitamente come nostro personale contributo alla community trovate i link nella descrizione qui sotto e tra l'altro quando andrete a scaricare il pdf vedrete anche che le regole scritte da lucerto a rossa sono molto più lunghe molto più dettagliate di quelle abbiamo potuto esplicitare in questa breve intervista perché ovviamente non ci sono solamente le regole che regolano la reputazione ma anche quelle che regolano come guadagnare e perdere reputazione e come le fazioni reagiscono in base al livello di reputazione dei personaggi non vi faccio spoiler se siete interessati leggetevi il pdf leggetevi per lungo è un lavoro fatto molto bene e tra l'altro poi fatemi sapere qui sotto nei commenti se avete deciso di utilizzarle se magari le avete dovute riadattare perché le volete usare su una vostra ambientazione specifica e magari ditemi anche proprio come le avete riadattate ora comunque diciamo che avendo stabilito una lore specifica creato una veste grafica creato anche delle immagini pittoriche rappresentative e avendo sviluppato un sottosistema di regola che gestisce gli aspetti specifici e l'ambientazione possiamo dire che il nostro lavoro per quanto riguarda il mega dungeon possa dirsi concluso almeno per quanto riguarda quest'anno ovviamente se questa fosse un'ambientazione sviluppata veramente per scopi commerciali ovviamente sarebbe ancora da espandere ci sarebbe da fare più revisione del materiale dovrebbe anche essere playtestata molto più seriamente di quello che abbiamo potuto fare sul canale ma questa vuole essere principalmente un esempio per voi su come creare la vostra ambientazione assieme al vostro gruppo e anche un modo che ha la community del master kai per mettere assieme le proprie idee e creare qualcosa di migliore della somma di ogni singolo master che fa parte dei gruppi comunque questo video e tutti i suoi fratelli questa estate sono stati lunghissimi quindi finalmente posso dire che la chiudiamo qui non sopportate più di sentire la mia voce come ho detto dalla prossima settimana riparte la serie regolare del canale inizieremo su un video filosofico sull'importanza di ritornare sui propri passi e rivalutare il proprio lavoro e poi cominceremo con i remake della primissima serie del canale quella sul metodo del dungeon che oramai è vecchia praticamente in nove anni quindi non reggeva più il livello e il resto del canale doveva essere rifatta come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche se le notifiche non vi arrivano in descrizione trovate il server di disco e il gruppo telegram dove metto io le notifiche manualmente e si riunisce la community e il canale e dove trovate tutto il materiale che viene prodotto tra cui tutto quello che avete visto in questo agosto come sempre io sono il Master K e noi ci vediamo nel prossimo video e noi ci vediamo